grande fratello varrese minaccia vittorio web chiede la squalifica il grande fratello è in tumulto a seguito dell'ultima esplosione di massimiliano varrese il quale ha perso nuovamente le staffe minacciando seri provvedimenti nei confronti di vittorio menozzi la situazione definita come una scenata di gelosia eccessiva sta sollevando polemiche e richieste di squalifica da parte del pubblico sui social media le parole di varrese rivolte direttamente a vittorio sono stati inequivocabili o ti dai una regolata o ti faccio regolare io questa escalation di tensioni ha generato reazioni immediate da parte degli inquilini della casa e dello stesso pubblico che attraverso l'ashtad fuori varrese sta esprimendo il suo disappunto per l'atteggiamento dell'attore il contesto di questa esplosione emotiva sembra essere legato alle dinamiche in evoluzione all'interno della casa con varrese che ha preso di mira vittorio dopo l'uscita di beatrice luzzi la situazione è giunta a un punto critico questa mattina quando varrese discutendo con letizia ha espresso il suo disagio nei confronti dei comportamenti di vittorio verso le concorrenti accusando vittorio di superare certi limiti varrese ha dichiarato o si dà una regolata o te la faccio regolare io l'attore sembra essere visibilmente alterato e la situazione è sfuggita di mano suscitando preoccupazioni sia all'interno che all'esterno della casa la reazione di vittorio sconvolto dalla situazione è stata di cercare sostegno tra gli altri concorrenti in particolare presso fiordaliso tuttavia la reazione di varrese ha destato preoccupazioni tra gli spettatori e molti chiedono la squalifica immediata dell'attore il web è infuocato con commenti che condannano il comportamento di varrese alcuni addirittura chiedendo che non venga nemmeno sottoposto al televoto ma venga immediatamente squalificato le reazioni sul web riflettono una crescente insoddisfazione nei confronti dell'atteggiamento di varrese e pongono la questione se alfonso signorini e gli autori del programma interverranno con misure più severe di fronte a questa nuova escalation di tensioni